Non lasciatemi! Ciao, sono Alessandro Florenzi e nel film I Primitivi darò la voce a Dribblo, il campione della Real Bronzio che sfiderà la squadra di Cavernicoli. Hai spagliato Cavernicolo! Adesso ci hai fatto arrabbiare! Il mio personaggio nel film parla un accento tedesco e per questo mi sono aiutato perché l'anno scorso qualche parola la diceva Antonio Rudiger della nazionale tedesca e anche un po' a Camus Trotman, anche se lui è olandese, però parla alle volte un po' così. Ho deciso di partecipare a questo progetto in primis perché amo i bambini e in secondo perché così tra qualche anno mia figlia potrà sentire suo papà che parla tedesco. Razza di femminucce vi massacriamo! Questa è la prima volta che faccio un doppiaggio e devo dire la verità, mi sono veramente divertito e lo rifarei volentieri. Se venissi catapultato nell'età della pietra porterei con me la Playstation. Che cosa hai fatto Yookle Krabber? Hai appena fatto un autocorso! Vi aspettiamo al cinema con i primitivi dall'8 febbraio. Grazie! 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 Grazie!